Vittoria in rimonte per lo sporting di Catanzaro Lido che dopo la qualificazione alla semifinale di Coppa Calabria ottenuta mercoledì nei confronti del Real a Montepone con questa vittoria si sistema in una posizione di classifica più tranquilla diciamo un po' lontana dalla zona basse della classifica quelle che riguardano appunto i play out. Eppure non era cominciato bene il pomeriggio per la squadra di Mister Patti che dopo solo 8 minuti si era trovato in svantaggio nei confronti del Casale del Manco squadra che poi però nel resto della partita è scomparsa diciamo dal campo e i Catanzaresi dello Sporting hanno cominciato a macinare gioco e azioni su azioni con qualche palo e qualche traversa alla fine del primo tempo sono riusciti a raggiungere il pareggio con Giglio e poi verso il trentesimo del secondo tempo ottenere il gol del vantaggio con Arcuri. Diciamo legittima la vittoria dello Sporting anche perché come dicevamo proprio la squadra Cosentino non si è più fatta vedere dopo il gol iniziale e la possibilità quindi adesso per Mister Patti di poter programmare il nuovo inizio di campionato, questa nuova zona, questa nuova fase che riguarda intanto il finale del girone di andata e la partenza del girone di ritorno con quello che dovrà succedere nel corso del recupero. Vedremo se nel corso anche della stagione del questo mese di dicembre ci potrebbero essere anche delle nuove acquisizioni da parte della squadra Catanzaresi che potrebbe rinforzare appunto l'organico e poi si proseguirà per il resto del campionato. E questo è tutto per la partita tra lo Sporting Catanzaro e il Casale del Manco finita per 2 a 1 per i Catanzaresi.